Noi abbiamo sempre favorito la presenza dei procitani, ovviamente con la disputa di un campionato di categoria superiore per restare a livelli alti dove abbiamo tentato di restare c'è bisogno anche di risorse esterne dal punto di vista umano ma i procitani sono sempre stati presenti. Quest'anno invece abbiamo con una categoria diversa puntato totalmente sui procitani con qualche innesto di un paio di schitani e qualche giocatore che viene dalla terraferma che però per esempio tra il portiere e qualcun altro sono anche conferme rispetto all'anno scorso che sono delle bravi ragazze molto valde. Quindi abbiamo fatto secondo me una squadra competitiva perché a Procida c'è una sostanza calcistica che può dare abbastanza per il calcio e quindi adesso cominciamo la prima di campionato con il rione terra e speriamo di un buon risultato. Ci vuole tanta passione, noi ce l'abbiamo, anzi ne abbiamo di più. Ogni anno scopriamo di avere sempre più passione perché il calcio è uno sport importante, bello, che nelle piccole realtà si può fare solo se c'è un gruppo di persone che intende sacrificare tempo e risorse per il calcio. Arriva la Befana e ti dice caro Luigi puoi prendere un calciatore a scelta in tutto il mondo per metterlo nel Procida. Chi sceglieresti? Maradona. Quindi sei un nostalgico? No, no, secondo me Maradona attuale a 57 anni nel Procida ci farebbe vincere.